No, io ho appuntamento, proprio che ciò, proposto dal Consiglio Comunale per l'apparazione di un'economia di commissione pari opportunità. Allora, posso dire, posso dire? Allora, la verona hanno a sconciuto l'apparazione di un'economia di commissione di politica e sociale, e poi assegurare, assegurare, e poi assegurare, 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 asse Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.